Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti, si trova costantemente sotto i riflettori a causa della sua relazione con l'ex calciatore. Dopo lo scandalo del tradimento e il tapiro d'oro ricevuto in coppia, ogni sua azione viene scrutata e commentata dai media e dai social. Recentemente Noemi ha condiviso su Instagram un desiderio particolare. Vuole un albero di Natale super stupendissimo per le prossime festività. Questa richiesta ha suscitato diverse reazioni, considerando il contesto in cui si trova la coppia. Nonostante il tradimento di Totti sia stato reso pubblico da poco, Noemi sembra concentrarsi su dettagli frivoli, come la decorazione dell'albero di Natale. Questo atteggiamento ha portato molte persone a interrogarsi sulle reali intenzioni e sentimenti della Bocchi. Alcuni ipotizzano che Noemi abbia perdonato Totti e stia cercando di costruire una nuova vita insieme a lui, tra viaggi e progetti futuri. La richiesta dell'albero di Natale potrebbe essere un segnale di normalità e speranza per il futuro della coppia. Tuttavia resta il dubbio se questa apparente leggerezza nasconda un dolore più profondo o se sia solo una strategia per superare il passato. In ogni caso Noemi e Francesco continuano la loro relazione, affrontando le sfide e i giudizi del pubblico. Mentre il mondo si chiede se l'albero di Natale della Bocchi sarà più bello di quello di Ilari Blasi, la coppia sembra concentrarsi sulle piccole gioie della vita, lasciandosi alle spalle i momenti difficili. Resta da vedere cosa riserverà il futuro per Noemi e Francesco, ma per ora l'attenzione tutta sull'albero di Natale super stupendissimo che la Bocchi.